Fiore, fascia sinistra, ancora Fiore, pallone al centro, percussione di Levato, calcio di rigore per il calcio Acri, dai e vai con Adriano Fiore, Levato si incunea, fallo di Marciano se non erro. Minuto 11, Paolo Gallo col pallone in mano, calcio di rigore per il calcio Acri. Tutto pronto per il fischio di Tomasi, Gallo contro Parisi. Parte Gallo e spiazza completamente Parisi, 1-0 per il calcio Acri. L'esultanza del Gallo, ancora una volta a segno. Fiore in venta, Levato in percussione, calcio di rigore netto. Paolo Gallo con destrezza, sblocca questa partita.